Stiamo parlando di oltre 10.000 aziende nella regione Abruzzo con un indotto molto importante che impatta sul PIL abruzzese in maniera determinante, un settore che ha avuto riporcursioni forti e dannose su questa alternanza delle varie fasce e quindi è giusto che oggi la regione Abruzzo ascolti i rappresentanti principali di questo comparto, insieme vengano studiate le linee di credito più opportune per questo settore, ben sapendo che il soggetto principale che deve erogare fondi è il governo e quindi il Presidente Marsilio dalla sua parte si batterà nel tavolo Stato-Regioni affinché vengono dati ristori certi in tempi certi e noi cercheremo di trovare ulteriori risorse per cercare di dare conforto a questo settore.